Carlo, allora, un bilancio in un minuto, 2018 e cosa ti aspetti dal 2019? 2018 per me personalmente è stato un anno bello, sono alla mia età in piena salute e quindi per me è stato un anno bellissimo. Per quanto riguarda generalizzato quest'anno, credo che sia stato uno schifo da far paura, attentati da tutte le parti, botte da tutte le parti, non assolutamente disgustoso, giovani di 14 anni che fanno a drogarsi a tirare, veramente vergognoso. Sì? Sì, questo è di quest'anno. Ha detto di farla corta perché hai rotto i coglioni. Sì, ma questo è di quest'anno, il prossimo anno ora, buon anno a tutti e tanti auguri. Riccardo, è rotto i coglioni a tutti, sono i nostri spettatori. Aspetta, li butta giù poi si fa per l'anno dopo. Sono i nostri spettatori. Ciao, ciao, saluta a tutti.